Allora, per cercare di seguire le indicazioni che mi sono state date, tra le tante modalità di inquadramento di questo tema che oramai è un po' come se vi ricordate succedeva ai tempi di internet, quindi si usava la parola in maniera molto onnicomprensiva, io ho provato ad appoggiarmi ad uno sforzo che abbiamo fatto come università insieme agli altri colleghi per presentare alla Camera dei Deputati che cos'era per l'Università di Bologna questo tema di Industria 4.0 in senso più ampio. Ho citato volutamente la parola internet che adesso diamo tutti un po' per scontata per ricordare alcuni aspetti un po' più generali, perdonatemi io sono universitario, qualche cosa un po' più astratta me la farete dire, poi prometto che entro sul concreto delle tecnologie, del lavoro e di tutto quello che accade, però forse a volte per definire poi anche gli interventi di policy un po' di mappa cognitiva ordinata può anche essere utile. Allora prima cosa diciamo in questo momento dentro questo tema di Industria 4.0 ci sono diversi fattori abilitanti, qui ne sono stati citati alcuni che anche qui prendono dei nomi, l'internet delle cose, ma l'internet delle cose è un complesso di sensori, di rete, di trasmissioni e di protocolli di scambio di dati che consentono un'integrazione che prima non c'era. Un fattore abilitante è la capacità di molti utenti di interagire con strumenti digitali in maniera automatica senza che questo richieda un'attività di formazione a monte, con anche l'aspetto se volete poi negativo di non avere un controllo completo di questo tipo di elementi e i riflessi che questo potrebbe avere in chiave di formazione sul lavoro. Quindi una serie di elementi che tendiamo a dare un po' per scontati e che forse sono arrivati tutti quanti insieme senza che ci fosse un disegno razionale preordinato che ne ha consentito la convergenza. Secondo aspetto appunto la convergenza, che tutte queste cose stanno arrivando un po' a un elemento di sintesi. In questo periodo si parla molto di intelligenza artificiale, per esempio, anche, credo adesso non voglio togliere la parola Google, ma non più tardi di ieri o dell'altro ieri nella conferenza degli sviluppatori, i cosiddetti bot, cioè, diciamo, modalità di automazione di molte funzioni che ci sono sempre stati, ma che adesso diventa più facile realizzare attraverso comandi vocali, si poggiano su uno sviluppo molto forte dell'intelligenza artificiale, che a livello algoritmico, diciamo, non è cambiata tantissimo rispetto a molto tempo fa, però adesso può contare su una grandissima base di dati che genera fenomeni di autoprendimento, tipo, appunto, AlphaGo che batte il campione del mondo di questo strano gioco a tessere molto complicato in pochissimo tempo, oppure, diciamo, i call center completamente automatizzati. Quindi qui non è che c'è sotto un cambiamento tecnico veramente significativo, ma c'è una convergenza molto forte. Altro aspetto, questa convergenza però beneficia di una possibilità di integrazione, l'integrazione dovuta a un fenomeno molto simile a quello che abbiamo vissuto ai tempi di Internet, quando tutto partì, nel momento in cui una serie di protocolli, dal TCP, IP al linguaggio HTML, ognuno sviluppato in maniera abbastanza autonoma, sono arrivati ad essere disponibili in maniera abbastanza contemporanea. Questo lo segnalo perché l'integrazione spesso è un luogo di creazione potenziale di lavoro, mentre non necessariamente lo è, diciamo così, l'ottimizzazione delle singole funzioni. Questa integrazione garantisce quella che viene chiamata in senso tecnico un'interoperabilità, cioè il fatto che si riesca a lavorare su standard compatibili e non ci sia la necessità di avere una piattaforma unica. Prova ne sia il fatto che tutti i più grandi operatori in questo momento dotati di risorse per intervenire in questo settore cercano di imporre il proprio standard come standard d'uso, ma non abbiamo una dimensione di standardizzazione tecnica rilevante. Questo in un mondo come quello industriale è importante perché la storia degli standard nel contesto industriale è sempre stato un punto di incontro di policy e di preservazione della concorrenza ed è un elemento dove noi adesso siamo forse anche un po' impreparati a capire cosa voglia dire standard oggi in un mondo dove l'interoperabilità colloca gli oggetti in contesti diversi. Infine c'è un tema forte di interdipendenza perché qui non è più come una volta che se c'è un battito di farfalla il terremoto non accadrà perché può darsi che un'inefficienza in un pezzo della nostra catena provochi delle conseguenze ancora non previste e non modellizzate proprio perché esiste una fortissima interdipendenza. Basti pensare al fatto che noi siamo tutti abituati a non poter immaginare di rimanere senza la mail per un giorno ma questo è legato ad un'architettura di cloud e di distribuzione dei dati che la maggior parte degli utilizzatori neanche quelli più sofisticati conosce affatto nella sua distribuzione criticità e presenza. Non per niente il contesto della sicurezza informatica è il contesto di maggiore attenzione degli investimenti sensibili e se qualcuno di voi ha seguito qualche episodio recente per esempio un piccolo bacco ha potuto fermare e distruggere una grande centrale elettrica in Cina bloccando grandi provvigioni per molto tempo. Allora cosa abbiamo provato a fare per la nostra audizione? Abbiamo provato a semplificare tutto quindi io vi chiedo scusa se sarà molto semplificato ancora però penso che ci aiuti a cercare di ragionare sul fatto che quando parliamo di Industria 4.0 in realtà stiamo riportando al centro il mondo della manifattura come attenzione però questo mondo che in realtà ha delle ripercussioni immediate su molti altri mondi. Allora di solito la dicotomia classica è tra il mondo fisico appunto la manifattura e il mondo digitale quindi prima necessità distinguiamo un po' fra queste due dimensioni l'altra necessità è distinguere tra quello che accade prima che un consumatore finale un utente finale abbia coscienza dell'oggetto che tocca o del prodotto o del servizio che utilizza e quello che invece succede quando vengono coinvolti tutti i vari consumatori fatemi dire in maniera più nobile i cittadini perché diciamo accanto a questo c'è un risvolto di società molto rilevante. Allora se ragioniamo in chiave classica di manifattura e rapporto produttivo Industria 4.0 significa cambiamenti per la fabbrica in senso diciamo così lato. Se ragioniamo in termini di cosa succede sul digitale e cosa succede invece sulla parte produttiva abbiamo cosa cambia in termini di relazione di produzione perché al di là di quello che noi chiamiamo fabbrica c'è tutto ciò che porta alla realizzazione e tutto quello che è legato alla catena che ciò evidenzia. Se ragioniamo di fisicità e di società sicuramente tutto ciò ha un impatto sull'individuo e l'abitare quindi forse temi che già nel vostro ultimo numero avete toccato ma tutto quello di cui parleremo tocca moltissimo la dimensione delle città. Infine dall'individuo e l'abitare però c'è la dimensione collettiva e quindi quello che un po' i nostri colleghi del design chiamano il territorio antropizzato perché tutta questa dimensione di internet delle cose vissuta a livello di singolo soggetto significa che banalmente se fate c'è una bella fotografia delle diverse occasioni recenti in cui è stata presentata appunto c'è stata la fumata bianca e la presenza del nuovo Papa in piazza San Pietro se guardate negli ultimi dieci anni ci sono prima delle lucide che arrivano dalle case poi qualche candela l'ultima sono tutti i cellulari che in quel momento stanno riprendendo con l'evento e questa dimensione diventa quasi una propagine della nostra quotidianità e tocca la città e l'essere antropizzato. Allora la fabbrica, qui vado un po' veloce su tutti i quattro punti così poi lancio magari la discussione se ragioniamo sulla fabbrica ci sono una serie di tecnologie che in buona parte sono già molto presenti e che stanno cambiando ma che si muovono su una tradizione in qualche modo in molti contesti già molto avanzata e è tutto ciò che ha a che fare con l'automatica e la robotica nelle varie fasi produttive dal rapid prototyping al design, la realtà aumentata, diciamo il rapporto quindi tematiche un po' tecniche ma che hanno poi anche riflessi molto rilevanti sulle relazioni sindacali sulla relazione tra uomo e macchina nel contesto di lavoro, sulla vita lavorativa e la necessità di formazione nel contesto della vita lavorativa che è molto cambiato nel corso del tempo e quindi non è solo la macchina qua coinvolta ma è appunto tutto ciò che sta dentro al rapporto produttivo. Secondo punto di cui parlavamo è la rete e qui non si può non ragionare in termini appunto di nuvola, di cloud, di distribuzione dei dati e di tutto ciò che poi questi dati possono comportare in termini di utilizzo sotto ciò che oggi definiamo intelligenza artificiale perché questo elemento è un elemento che cambia le relazioni nella rete di produzione intanto perché pone un tema di proprietà dell'informazione, di condivisione dell'informazione, di stabilità nel tempo di queste regole. Pensate agli eventi recenti, questo non siamo nel mondo della fabbrica ma che hanno toccato il padre che vuole vedere il telefono del figlio ma il figlio non c'è più, le regole di accesso o meno ai cosiddetti patrimoni digitali, questo spostiamolo dal privato e mettiamolo in un contesto più industriale pone una serie di tematiche non irrilevanti oltre che per esempio immaginiamoci non solo la fabbrica del futuro e le relazioni del futuro ma noi andiamo a fare la spesa oggi nulla osta che uscendo dal nostro supermercato possiamo già avere sul nostro terminale mobile non tanto lo scontrino che magari è poco interessante ma una cosiddetta distinta base della nostra spesa in modo che questa possa immediatamente essere caricata a casa e io sappia cosa sto sprecando, se devo comprare nuova pasta, nuovi altri elementi eccetera. Non solo ma questo tipo di dato sarebbe molto rilevante per fare campagne pubblicitarie più targetizzate ma di chi è quel dato? Sono io che compro, dovrebbe essere mio però è l'aggregatore del retail che in questo caso mi sta vendendo quindi diventa un elemento dove la gestione della catena di fornitura e della rete diventa non così conosciuta come lo abbiamo ad oggi. Altro aspetto, l'individuo e l'abitare. Allora qui l'individuo e l'abitare sicuramente c'è il tema dell'interno delle cose ancora più che sul contesto diciamo così produttivo perché nel contesto produttivo la dimensione della sensoristica e del controllo fa parte integrante dell'ottimizzazione del flusso e delle relazioni produttive. In questo caso la mia capacità di interagire con un quadro piuttosto che da questo ricostruire un suggerimento rispetto alle opportunità culinarie della zona o in maniera più nobile all'interno di un ospedale riuscire a muovermi per poter avere automaticamente un accesso a quello che è la distribuzione del farmaco nel momento dovuto grazie all'integrazione dei miei strumenti tutto questo è un qualche cosa di portata assolutamente ancora sconosciuta non tanto nella parte tecnologica che sembra sempre affascinante ma di reazione in termini sociali di interazione dell'uomo e della sua modifica della struttura di rete e di comportamento. Quindi diciamo qualcosa in cui c'è un cliente che partecipa alla, adesso si dice produzione delle merci o comunque partecipa alla loro manipolazione in una misura che non necessariamente è pianificata e quindi magari dà risultati che non siamo ancora in grado di percepire ma che ancora grazie all'altra matrice possiamo recuperare in termini di tanti dati e dopo chi li usa questi dati cosa ci faccio se io adesso vado a correre e ho il mio orologio sincronizzato sull'app che mi monitora l'andamento del mio battito cardiaco quanti possono essere interessati a questo dato in bene e diciamo così anche in maniera differente. Infine la città e il territorio dove in questo caso sempre qua vedete delle indicazioni che sono molto centrate su una dimensione più di business quindi del una qualche forma di creazione di valore che si auspica e venga distribuita tra vari soggetti la sfida principale diventa il fatto che qui io sono in grado di seguire nel contesto d'uso non semplicemente nell'abitudine d'uso del singolo del singolo prodotto. Non stiamo parlando di futuro stiamo parlando di attualità molto vero per una parte più diciamo così software ma se non so avete visto l'esperimento recente di Barilla con Electrolux con Whirlpool piccolo fornetto a microonde sostanzialmente che consente di avere pasta vera cotta non pasta precotta grazie ad una combinazione di ingredienti fatti ad hoc che portano direttamente la relazione tra il cliente e la casa produttrice saltando la catena distributiva e avendo un canale di distribuzione completamente online. Immaginatevi un elemento di questo genere che viene all'interno delle mense e che diventa un elemento che facilita l'interazione e dunque la partecipazione diretta e possiamo fare un po' altri esempi di questo genere. Allora mi perdonerete vado un po' a volo d'uccello perché la mattinata è lunga e ognuno di noi ha avuto tempi un po' contingentati però la sintesi di tutto questo per tutti diciamo così con la posizione che come università abbiamo voluto raccontare è che in realtà noi stiamo usando un termine spesso coinvolgendo temi molto diversi tra loro e questo è un bene perché ci consente di avere delle prospettive molto più ampie, è un bene perché ci aiuta a riconoscere che non c'è solo una dimensione tecnologica e non è solo una dimensione tecnologica di un certo tipo che sta guidando questo percorso, è un bene perché attira subito l'attenzione sulla necessità di coinvolgere competenze e sensibilità diverse nella risoluzione dei vari elementi. Dall'altro lato però deve mettere un po' in guardia rispetto al fatto che qui davvero se cambia completamente l'impatto anche gli strumenti di programmazione, di intervento, di riflessione, di interazione devono poter essere un po' più agili e seguire questo tipo di cambiamento altrimenti si rischia sempre di intervenire in un pezzettino piccolo di uno singolo di questi quadranti senza che questo poi abbia un impatto da altri contesti. Quindi diciamo io concluderei qui con tre sottolineature. La prima è che se noi, siccome si è sempre in cerca, è normale cognitivamente, se noi abbiamo degli schemi precostituiti questi ci aiutano a volte a trovare delle soluzioni come allo stesso tempo ci impediscono di vedere le cose completamente nuove. Ora qui c'è qualcosa che abbiamo già visto ai tempi della nascita di internet. La novità è che coinvolge una parte di mondi allora apparentemente distanti. Secondo punto è un aspetto che ha già avuto dei cambiamenti profondi nella organizzazione e nella strutturazione della società che non sono ancora stati però allineati con altri pezzi del cambiamento istituzionale a partire dal rapporto tra la componente istituzionale e il cittadino per finire anche nelle cose più piccole con la componente normativa. Terzo elemento, la parte industriale in questo contesto è forse ancora più centrale di prima per un semplice fatto che è il luogo dove si stanno sperimentando anticipatamente molte delle soluzioni che si potranno rapidissimamente ritrovare da altre parti. La grande differenza è che siamo arrivati ad un livello di avanzamento delle conoscenze nei diversi campi per cui i cambiamenti saranno molto più rapidi. Non perché sono più rapidi adesso ma perché beneficiamo di un'accumulazione di conoscenze di cui non ci siamo accorti del tipo di portata che avrebbe avuto fino a che tutte queste cose appunto non sono andate insieme. Questa è l'ultima riflessione con cui vi lascio quindi è anche che dovremmo fare i conti con la necessità di non pensare di essere in grado di essere troppo programmatori e pianificatori. Cioè in questo momento e parlo a livello di Unione Europea in generale c'è un po' la tendenza a fare dei grandi piani per l'industria 4.0 del futuro. Non siamo stati in grado di fare i piani per mettere in fila le tecnologie che hanno portato ad adesso il rischio è che cominciamo a fare i piani quando è già tutto partito e siamo già arrivati un po' dentro. Quindi il tema è qui dentro e questa è la mia personale convenzione ha senso che ragioniamo di iper architetture istituzionali di coordinamento o forse non dobbiamo preoccuparci delle caratteristiche istituzionali di funzionamento che distinguono l'Europa da altri contesti. Che vuol dire attenzione ad un welfare sociale fatto in un certo modo regole di concorrenza chiare e possibilità di mettere avanti rispetto ad altri sistemi di valori elementi legati alla tutela dei diritti individuali così come li abbiamo sempre portati avanti. Vi ringrazio.